mi sa che c'è stato, cioè di qua è carino il tempo forse sta arrivando il tramonto non penso, amore sì, perché vedi che c'è un po' di tramonto e l'amo perché non è ancora arrivato il tramonto ok, sono le 9 amore mi sa che c'è stato è un temporale eh, sai il temporale, amore ciao guys, buon lunedì io sto andando a Pilates per iniziare bene questa giornata e questa settimana e guardate un po' con me nella borsa ho portato questo protein cookie di Footspring questo è il caramello salato che è uno dei miei preferiti che è perfetto dopo l'allenamento allenamento fatto, mi godo il mio protein cookie buonissimo ma ti sei diplomata? ti sei diplomata? tornata a casa con le mie valigie ma soprattutto con le mozzarelline di tutti i prodotti campani con le mie valigie ma soprattutto 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 Grazie a tutti